buongiorno a tutti come sentite dalle campane se le sentite è mezzogiorno di sabato 9 luglio io sono sul divano lì c'è un cane tipo morto e niente stamattina mi sono svegliata verso le 9 e mezza ho fatto colazione mi sono cambiata e verso le 10 e mezza sono uscita con mia madre siamo andati verso albino e niente siamo tornati un quarto d'ora fa più o meno e adesso io sono stanchissima perché all'andata è tutta discesa a ritorno è tutta salita e niente io sono stanchissima anche per questo motivo poi mi fa male la testa quindi e per ora è tutto e ci sentiamo e che ho finito la doccia e tu te ne vai qua c'era qualcuno che mentre faceva doccia mi guardava amon guarda che ti vedo di chi è quella codina che mi facevi la guardia mentre facevo la doccia amon ciao a tutti sono quasi le 4 io vi sono appena lavati i capelli e come avete visto dagli ispezioni che vi ho messo prima c'era il mio cagnolino che si era messo qua fuori dalla porta a farmela guarda e niente sono quasi le 4 e niente poi alle 3 ho pubblicato il nuovo video perché oggi è sabato e niente io adesso ne vado un attimo al sole perché non ho voglia di asciugarli cioè in estate odio asciugare i capelli preferisco lasciarli così asciugarli al sole cioè secondo me è meglio perché durante tutto l'inverno li ho piastrati tutte queste robe qua però preferisco e niente dopo che io mi sarò asciugati i capelli niente dopo che io mi sarò asciugati i capelli prendiamo e non usciamo andiamo a fare una passeggiata perché il sole picchio oggi pomeriggio picche cioè se mattina si stava bene perché anche se c'era il sole c'era un po' di vento eccetera ma adesso fa caldissimo infatti se io sto fuori anche un secondo ho paura di bruciarmi e niente noi ci vediamo dopo e ciao 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 a tutti sono le 7 e mezza io sono in giardino che mi sto mangiando la frutta e niente lì c'è un amon e qua ci sono pesche, lamponi e frabolline sono in giardino ho appena finito di cenare oggi sono uscito verso le 5 più o meno sono andati a fare una passeggiata in giro presso il vino qua c'è appena arrivata una mosca e siamo tornati a casa verso le 6 e mezza io mi sono messo un attimo sul divano mia madre si è messa a preparare la cena e verso le 7 e mezza verso le 7 abbiamo cenato adesso sono le 7 e mezza non so se sentite anche le campane e niente adesso stasera verso le 9 andiamo dove c'è il municipio perché c'è la banda così come vi ho detto ieri intanto qua c'è il mio cane che sto giocando con il legnetto che gli ho regalato e ci sono le campane a dopo ciao ciao grazie a tutti Sottotitoli e poeti sono riferiti alla luna. Chris e Mark Twain, ognuno di noi è una luna, ha un lato scuro che non mostra mai a nessun altro. William Shakespeare, folle l'uomo che parla alla luna, stolto che non le presta ascolto. Giacomo Lopardi. Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. È domenica 10 luglio. E da come sentite con le campane è mezzogiorno. Sono in camera mia. Sono tornata a Milano. E lo so, sono pessima. Lo so, ne rendo conto. E niente. Praticamente ieri siamo tornati a casa dal concerto della banda. Non abbiamo ascoltato gli ultimi quattro brani. Perché Amon iniziava ad essere stanco. E dava un po' su di giri. Allora ho detto ok andiamocene. Siamo tornati a casa che erano tipo le 11. O poco prima. Adesso non mi ricordo. E io fino a mezz'annate ho guardato un programma sul real time. Tipo sopravvissuto all'inferno. Mi sembra che si chiamasse. E poi niente a mezzanotte ho spento tutto. Mi sono fatta la doccia. Ho organizzato la roba. Ho preparato la roba. Ho sistemato camera. E poi sono andata a dormire. E... Vabbè il telefono era scarico. E mi sono dimenticata di... Aggiornarvi. Scusatemi. Si lo so sono pessima. Ma me ne rendo conto. E niente. Poi stamattina mi sono svegliata verso le 9. Tempo materiale di prendere il telefono in mano. E... Registrare qualcosa. Non ce l'ho avuto. Perché... Era troppo presa. Ero troppo... Indaffarata. Dovevamo partire verso le 9 e mezza. In realtà siamo partite alle 10. Però... Vabbè. E c'era un sacco di gente tra... Il pezzo di strada che collega Selvino a Nembro. Il quale è tutto tornanti. C'era un sacco di gente che andava... Verso Selvino. Al viatico. Da quelle parti lì. C'era veramente tanta gente. Non avevo mai visto così tanta gente. E... Vabbè che è domenica. Però... Siamo usciti... Un'altra volta di domenica. Mi sembra. E io non ho mai visto così tanta gente. Sinceramente. E... Vabbè. Niente. Adesso... Sono in camera mia. Che sto aspettando... I miei. Fra un po'... Vabbè scendo così gli do una mano. E... Oggi pomeriggio... Dovremmo uscire. Dico dovremmo perché mia madre deve andare in ufficio. Non so che cosa... A fare che cosa. Non... Non ho idea. E... Io e lei poi dovremmo andare a virtuale. Però poi dobbiamo sistemare anche casa. Quindi... Vediamo un attimo come... Riusciamo a organizzarci con i tempi. Non i tempi. Tutte queste cose qua. Eh... No. Mi è dispiaciuto non finire il vlog ieri. Però... Scusatemi. Vi ho comunque portato con me. Spero che... Questi... Giorni. Grazie Alvino. Vi siano piaciuti. Anche perché... Anche perché è arrivato un cagnolino nuovo. Non è nuovo. È sempre lui. Che c'è Amon? Vieni qua. Vieni a salutare tutti. Vieni. Vieni a salutare tutti. No. Non dare il sedere alla gente. Vieni qua. Salutali. Ciao. Ciao ragazzi. Io sono Amon. Ciao a tutti. Eh... Guarda qua Amon. Ehi. Guarda qua. Tirate. Guarda qua. Saluta qua. No? Sì. Vergogna. Niente. Ci sentiamo dopo. Ciao ciao.